Amici di Football News My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per fare il diario della sedicesima giornata del campionato di Serie A. Un turno della Befana che ci ha detto come in questo campionato non ci sia una squadra assolutamente dominante sulle altre per quel che riguarda la lotta a Scudetto. Perché le prime due Milan ed Inter hanno entrambe perso ed il distacco tra di loro rimane di un punto. Il Milan perde 3-1 in casa contro la Juventus, big match di giornata. Una partita che è una vittoria importante da parte della squadra di Pirlo. Juve che sale a meno 7 dal Milan primo in classifica. Potrebbe essere anche un meno 4 qualora vincesse il recupero contro il Napoli. Una vittoria importante sicuramente sì, una prestazione invece non così tanto stellare. Una Juve che vince perché è più forte di un Milan decimato dalle assenze. Guardando poi un po' la prova dei bianconeri non mi ha convinto particolarmente la difesa. A parte dell'ICT che è stato il migliore del reparto. Nemmeno il centrocampo è riuscito a convincermi. Ho visto troppe palle perse. Centrocampo secondo me reparto peggiore che non è riuscito neanche a dominare contro un centrocampo del Milan che è stato il reparto più decimato. C'era solo Chessy di ruolo. Ronaldo non è riuscito ad incidere stasera. Migliore in campo direi. Chessy per le parate quando è stato chiamato in causa si è fatto sempre trovare pronto. Bene poi anche Dybala per i due assist. Chiesa molto bene per i due gol. Poi in generale l'ho visto molto vivace nell'arco dei 90 minuti. E poi nota di merito anche per McKennie che è subentrato nel secondo tempo. Ha segnato il gol del 3-1 però già si sapeva che questo giocatore per le caratteristiche che ha e per le condizioni in cui si trovava il Milan sarebbe stato un valore aggiunto alla partita. Per quel che riguarda il Milan invece una sconfitta che era da mettere in preventivo. Alla fine il Milan non ha neanche giocato male stasera. Cioè ha fatto la sua partita, ha fatto quello che poteva. A cavallo tra i due tempi ha anche giocato bene. Il problema è che non puoi tenere 90 minuti contro una squadra più forte della tua quando sei già decimato. Sei già decimato insomma. Vedi per esempio che sì, che è un giocatore che dà sostanza alla squadra, è un giocatore che recupera tanti palloni però nel secondo tempo è calato. Vedi poi anche Leao, ottimo nel primo tempo, molto vivace, creava scompiglio nella difesa della Juve. Ha fornito l'assist per il gol di Calabria. Poi nel secondo tempo chi l'ha visto. Proprio Calabria nonostante abbia giocato nell'insolito ruolo di mediano ha comunque fatto una buona partita. Non ha sfigurato e ha anche segnato il gol del momentaneo pareggio. Non mi è piaciuta del Milan la difesa. Errore prima di Hernández in occasione del primo gol, di Romagnoli in occasione del terzo. Diogo Dalò continua a sostenere che debba ancora carburare sebbene questo giocatore, a mio modo di vedere, abbia delle ottime potenzialità. Augie là in avanti invece, l'ho visto un po' eterio, neanche lui è riuscito ad incidere. Comunque sia una sconfitta che non ridimensiona il Milan. Non era una squadra fenomenale prima, non è una squadra di bidoni adesso. Certo è che se vuole lottare per lo scudetto fino alla fine, avrà bisogno di due, tre, quattro innesti nella sessione di mercato. Uno su tutti, un centrocampista. Perde il Milan, perde poi anche l'Inter. 2-1 a Genova contro la Sampdoria. Una buona partita della squadra di Ranieri, devo dire, una Samp attenta, composta, messa bene in campo. Un Inter che aveva iniziato con il piglio giusto, una squadra arrembante. Poi però il rigore sbagliato da Sanchez già poteva far capire che non sarebbe stata una giornata proprio felicissima. Dopo questo episodio infatti la Samp ha acquistato coraggio, ha segnato due gol con gli ex Candreva e Keita Balde portandosi sul 2-0. Nel secondo tempo poi ha abbassato il baricentro nel finale. L'Inter è riuscita ad accorciare le distanze, ci ha provato ancora un po' nel finale, però comunque la Samp è riuscita a stringere i denti e portare a casa questa vittoria. Un Inter che rimane sempre seconda a meno uno dal Milan capolista, però comunque un Inter che per chiarità ha sicuramente tutte le carte in regola per vincere il campionato, perché come Rosa è una delle più forti, è quasi completa, ha solo una competizione settimana, però insomma bisogna essere più continui nell'arco dei 90 minuti. Quindi giocando così, sì, puoi vincere in Italia per i motivi che ho appena detto, però in Europa farai sempre, sempre fatica. E direi che i risultati dell'Inter in Champions mi danno ragione. Però, a parte questo discorso sull'Inter in Champions, che qua non c'entra nulla, passiamo poi a parlare della lotta per l'Europa, una lotta che si mantiene viva ed interessante. Roma sempre terza in classifica. La squadra di Fonseca vince 3-1 sul campo del Crotone, grazie ad un primo tempo concreto. Una Roma che vince sapendo dosare bene le sue forze, direi. Una prestazione della Roma essenziale, che ottiene i tre punti, non dico col minimo sforzo, ma quasi. Vince poi anche l'Atalanta, 3-0 in caso contro il Parma. Una partita in cui non c'è mai stata storia. Vince poi anche il mio Sassuolo, 2-1 in casa contro il Genoa. Neroverdi al momento, quinti in classifica. Una partita, devo dire, piacevole, bella da vedere. Un Sassuolo non brillantissimo, ma che però riesce a portare a casa i tre punti. Un Sassuolo che vince perché ha cercato e voluto di più la vittoria rispetto alla squadra di Ballardini. Vittoria arrivata grazie al nostro fuoriclasse, grazie a JB7, il miglior esterno della Serie A, grazie a Jeremy Bogat, il Messi africano. Bogat, autore del gol del momentaneo 1-0, gol nato da un lancio a dir poco erotico di Locatelli e autore poi dell'assist del 2-1 di Raspadori. Quest'anno stiamo vedendo un Sassuolo meno scintillante dal punto di vista del gioco, però comunque vediamo un Sassuolo che di punti ne fa e questo è segno di una squadra che è cresciuta sotto l'aspetto mentale. Vittoria poi anche della Lazio, 2-1 in casa contro la Fiorentina. Lazio che sì, rimane agganciata al treno Europa, però la continua a vedere come una squadra un po' incerta. Sconfitta invece inspiegabile del Napoli, 2-1 in casa contro lo Spezia. Seconda sorpresa di giornata dopo la sconfitta dell'Inter. Un Napoli che ha fatto tipo 40.000 tiri in porta, ha segnato un solo gol, non è stato cinico negli ultimi metri. Lo Spezia non ha demorso, ha pareggiato con Zola, che tra l'altro avevo detto nei pronostici che avrebbe segnato. E poi nei minuti finali, addirittura in 10 uomini, ha segnato il gol del 2-1. Insomma, una partita che ci fa capire come il Napoli non sia una squadra stabile, non sia una squadra che riesca ad avere continuità. La lotta salvezza invece è un punto di domanda. Le squadre che personalmente vedo messe peggio per il livello della Rosa sono il Crotone e lo Spezia. Nonostante la bella vittoria dei Luguri di oggi contro il Napoli. Per il resto, cosa dire, il Cagliari perde 2-1 in casa contro l'ottimo Benevento e ormai è a nove partite consecutive senza vincere. Il Torino ottiene un pareggio 1-1 in casa contro il Verona. Un pari che serve a poco per la classifica. Sicuramente più utile alla squadra di Juric. Sì, stai continuando la tua striscia positiva, però insomma, se ti vuoi togliere dalle sabbie mobili, qualche vittoria di più in casa la devi fare. Il Parma è un'altra squadra in una situazione pericolante. Il Genoa, come ho già detto altre volte con Ballardini, credo che comunque riuscirà a sollevarsi. E poi, infine, pareggio 2-2 tra due squadre che si trovano in una posizione un po' più tranquilla, ovvero Bologna ed Udinese. Tra l'altro, questo è il quinto pareggio consecutivo per la squadra di Mihai Luigi. Va bene ragazzi, questo è stato un po' il riassunto dell'ultima giornata di Serie A. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io, come al solito, mi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del planisfero. Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao!